Ah, quindi questo è ciò che resta della chiesa della Santissima Trinità, mentre la chiesa era stata ricostruita nel Settecento, questo è il campanile della chiesa originale, quindi ha settecento anni. Sì, è segnalato in un testo del 1288, ma questo non significa che l'hanno fatto nel 1288, ma l'hanno fatto prima. Deve essere stata fatta prima. Grazie.